Un anno fa avevamo votato una risoluzione che sosteneva la linea del Dalai Lama nei negoziati con la Cina, in particolare non violenza e autonomia per il Tibet. La Cina ha fatto saltare questi negoziati accusando il Dalai Lama di essere violento e all'origine della violenza e di essere per l'indipendenza e non per l'autonomia. Oggi, nel cinquantesimo anniversario della sollevazione di Lhasa, sarebbe assolutamente inspiegabile se questo Parlamento non intervenisse non solo a difesa del Dalai Lama e della non violenza, ma anche delle nostre stesse posizioni e della nostra stessa dignità di Parlamento. Non si chiede di togliere altri punti all'ordine del giorno, si chiede semplicemente di avere il coraggio di esprimere una posizione e l'opinione di questo Parlamento. Per questo chiediamo che sia anche votata una risoluzione e non solo il dibattito. Grazie Presidente.